Musica Buongiorno e ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV Bentornati dopo le festività pasquali Eccoci in diretta al mattino 7.30 sul canale 17 per riprendere la lettura dei giornali Oggi è martedì e subito andiamo a vedere il santo del giorno Vediamolo oggi martedì 3 aprile è San Giuseppe l'innografo Monaco Il sole è sorto alle 6.49 e tramonterà alle 19.35 minuti E allora subito il tempo per oggi martedì 3 di aprile Avremo per la giornata odierna un cielo parzialmente nuvoloso Con temperature in diminuzione in particolare nei valori minimi Avremo anche il vento protagonista soprattutto moderato lungo la costa Con raffiche fino a vento teso Ma domani peggiora domani mercoledì 4 aprile Vedete avremo deboli precipitazioni sparse più insistenti Nelle zone dell'entroterra che diverranno diffuse Nelle ore centrali della giornata Con attenuazione dei fenomeni soltanto dal pomeriggio Tardo pomeriggio le temperature in aumento in particolare nei valori minimi I venti saranno di brezza tesa o moderato sud occidentale Che cosa succederà nei giorni prossimi? Giovedì ancora tempo brutto poi migliorerà Andiamo a vedere apriamo la finestra questa mattina Grazie al nostro telespettatore Augusto L'apriamo idealmente questa è stata scattata alle prime luci di questa mattina Vista Passo San Pasquale, vista sul Monte Catria, Monte Acuto Vedete c'è Orciano Poi ci ho mandato anche altre fotografie con la vista sul Conero Ma noi ci fermiamo su questa Grazie per avercela mandata caro telespettatore, caro Augusto Allora l'Interquartieri cambia volto Questo è il Corriere Adriatico Che devo dire questa mattina è molto ricco di notizie Molto ricco di pagine locali Questa è l'edizione di Pesaro Urbino L'Interquartieri di Pesaro cambia volto Arrivano locali a un fast food Aspettando il raddoppio sull'asse stradale Sta nascendo un nuovo polo commerciale Ma l'attenzione dei giornali questa mattina è sul fine settimana pasquale Soprattutto giorno di Pasqua e Pasquetta In spiaggia tanta gente così come sui monti Il meteo clemente ha spinto a cercare il primo sole al mare O l'ultima neve sul Catria Tante anche le presenze negli alberghi Grazie alle manifestazioni sportive Ed ecco la prima pagina del Corriere di Fano Avanguardie di turisti Gente che è venuta dunque a fare un sopralluogo Possiamo dire così per il giorno di Pasqua Parla il presidente degli albergatori Cecchini che dice a Fano abbiamo visto il mondo con inglesi, tedeschi, francesi e austriaci Dunque fa ben sperare In queste festività molti si sono dedicati anche alla passione della bicicletta Domenica si inaugura la pista Fano-Fenile E sotto la festa di lunedì di Pasquetta Lunedì dell'Angelo Quella che per i fanesi è la tradizionale festa di Madonna Ponte Tra messe e picnic Celebrazione del santuario con tonucce e trasarti E poi una lotteria Il cui ricravato è andato al continente africano Il Conad Questa è la notizia curiosa di oggi Il Conad, il supermercato del quartiere San Lazzaro-Rafano Svende tutto a metà prezzo E pensate ci sono state centinaia di persone in coda Sin dalle 7 del mattino per fare la spesa Calca il quartiere per la liquidazione della merce prima dei lavori Allora vi faccio vedere questo video che riguarda proprio L'apertura vista da dentro Abbiamo anche l'audio Se lo possiamo alzare Ecco Vi faccio vedere questo momento È proprio ripreso all'interno del supermercato Fuori centinaia di persone Un po' come negli Stati Uniti Non so se avete visto anche i telegiornali Ogni tanto fanno vedere queste Black Friday Ecco E qui Da qui per 6 minuti Per 6 minuti esatti È stata una processione continua C'è un ingresso continuo Senza sosta Tutta questa gente che è entrata Per portare via penso Tutto quello che c'era all'interno del supermercato Perché è tutto al 50% E questo è un fatto sociale Se vogliamo Un momento comunitario Sociale Che fa capire E guardate quanta gente Per 6 minuti È stato tutto così Posso andare Perché poi ve lo faremo vedere anche stasera Nel telegiornale Cercheremo di darvi anche qualche informazione Possibilmente Andiamo un po' avanti Non so se ce la facciamo E riusciamo a farlo Se no ve lo facciamo vedere direttamente stasera Ok Andiamo avanti con la rassegna stampa Sole dal mare alla montagna Dicevamo Pasqua Trasport E aria aperta Queste Sono le Famiglie Le persone che hanno deciso di passeggiare Lungo la spiaggia Così come tanta gente Ha visitato il carro di Rossini In Piazza del Popolo Lungo la spiaggia E sul Catria Con tanta gente Che ha preso d'assalto La pista Dove c'è ancora neve Ce n'è ancora L'unica stazione scistica Aperta delle Marche Era proprio il Catria Gli impianti E le piste Sono state prese D'assalto Dagli appassionati Ma c'è stato anche Un momento di Paura E di emergenza Per uno escursionista Che si è perso E è scattato Il soccorso alpino Un po' di brivido Per l'assalto Alla montagna di Pasquetta Nel primo pomeriggio È scattato Un soccorso Persona per uno escursionista Che aveva tentato La scalata alla vetta Partendo alle 8.30 Ma poi è stato Sopraffatto Dalla stanchezza E si è smarrito L'allarme è partito Dal suo telefonino Alle 14.30 E sono arrivati I vigili del fuoco Di Cagli e di Pesaro L'escursionista È un 39enne di Fano Non sapeva però Indicare Dove Si trovasse Qualcuno dice Lucrezia Qualcuno di Fano Il Corriere Scrive di Fano Allora gli hanno chiesto Di inviare un messaggio Con Whatsapp Attraverso il quale Poi è stato Geolocalizzato Ed è stato trovato In Val Delle Patate A 300 metri Dalla vetta E poi è stato Portato al foro Di Chieserno Dove è stato Rifocillato In qualche modo Interquartieri Dicevamo a Pesaro Cambia volto Presto Anche un fast food Aprono locali Bar e max impianti Di carburante Sull'asse stradale Sta nascendo dunque Un nuovo polo In zona Loreto E poi la notizia Della scomparsa Di Manuela Lisotti Il cordoglio Di Girelli A nome dei soci Del Rotary Rossini Il mondo del professionismo Pesarese È in lutto Nei giorni Delle feste pasquali È morta Appunto Manuela Lisotti Titolare dell'omonimo studio Di Viale dei Partigiani Che si occupa Di consulenza del lavoro E amministrazione Del personale Da circa 40 anni Dal 1979 E appunto La ricordano Tutti E lo fa anche Giorgio Girelli In qualità di fondatore E past president Del Rotary Club Pesaro Rossini Di cui Manuela Lisotti È stata presidente Nel 2010 2011 Abbiamo perso Un anello prezioso Così ha detto Girelli L'acquedotto Lascia a secco Il quartiere Di Pantano A Pesaro Gran parte Del quartiere Si è risvegliato Infatti Senz'acqua Pasquetta Per l'improvvisa Rottura Alla condotta Le squadre Di Marche Multiservizi Al lavoro Per riparare Il guasto Che si è verificato Lungo Via Giolitti Come mostra La fotografia Pubblicata Dal Corriere Adriatico E Gradara Vince Invece Questa La bella notizia Vince La sfida televisiva Eletta Infatti Borgo Dei Borghi Il sindaco Gasperi Dice Un riconoscimento Per tutti noi Straordinario Poi Il sindacato Di polizia Invece Che dice Preoccupato Sono 15 I poliziotti In uscita Il sindacato A congresso Per rinnovare I vertici E definire Le questioni Prioritari Come organici E sicurezza Lanzi Che è il segretario Parla della nuova questura I lavori dovevano partire Nel 2017 Ma non esiste Neanche Il progetto E poi In esclusiva Sul Corriere Adriatico Una notizia Che riguarda Un fatto Che è accaduto A Pesaro In via Branca Dove Un giovane Un giovane Straniero Ma che di fatto È a Pesaro Viva Peso Da tantissimo Tempo Che purtroppo Non sta bene È stato Già Nel passato Denunciato Per atti Per atti Osceni Insomma La commessa Filma E fa incastrare L'esibizionista Un giovane Identificato Dalla polizia Rischia adesso Una multa Di 40 mila euro Il ragazzo Si è presentato In diversi negozi Di via Branca Con un pacco Da consegnare È il famoso Trucco Per mostrare Le sue nudità Una vittima Però ha capito Che cosa stava Per fare Questo giovane E quindi Lo ha ripreso Con il cellulare Se siete curiosi Di sapere come funziona Insomma C'è tutto Tutti in particolare Sul giornale Di questa mattina Poi Sulla cronaca Delle Marche Invece Ossa All'Hotel House È turismo Dell'orrore E qui Purtroppo Non c'è Tragedia Che riesca A bloccare I famosi Turisti Che vanno A vedere Là dove O c'è stato Un terremoto O ci sono stati Dei morti O comunque C'è dell'orrore Questo è purtroppo Succede spesso E succede Quasi sempre Il campo Infatti Dove C'è stato Il macabro Ritrovamento Di alcune Ossa È luogo Adesso Di Pellegrinaggio Tra l'altro Brutto Questo termine Utilizzato Però È così Pellegrinaggio Di Curiosi Salmartini Di Cenzona Non arriveranno Nuovi agenti Raccoglierò Le firme Qui siamo A Porto Recanati Dalla Valle Foglia Le grotte E l'estro Premiato Addobbi Cerchiamo il bis Organizzatori E residenti Preparano La disfida Dei giochi Tra i quartieri 2.0 Questa è una notizia Che riguarda Valle Foglia Poi A terre roveresche Invece Così come è successo Natale Un anonimo Signore Ha donato In questo caso Per Pasqua Invece 118 uova Di cioccolata A patto Che non si sapesse Il suo nome È un anonimo Che probabilmente Ha frequentato Questa scuola Orciano Che ha voluto Fare questo gesto Un anziano Ex militare Che aveva frequentato L'istituto Appunto di Orciano Che ha voluto Donare 118 uova Ai bambini E poi le colombe Invece Alle maestre Le ha date Tutte al comune Queste uova Lui ha detto Che vuole rimanere anonimo E le ha fatte consegnare A Natale invece Aveva regalato A tutti Un panettone Da Urbino Invece Ceriscioli Insiste Il presidente Il presidente Della regione Marche Con i privati No a queste Sperimentazioni Si parla di sanità Il comitato Pro ospedali pubblici Contro la proposta Di legge Della giunta regionale E poi Ancora Dalla Val Cesano Rimossi I mattoni Pericolanti Ora Un milione Per il restauro Necessario Il consolidamento Delle mura storiche Di Orciano E questa è la stima Del sindaco Ancora Dalla Corriere Io e il Sahara Il deserto La mia marcia Nel deserto Per domarlo Il pesarese Davide Vitali Parteciperà All'impegnativa Marathon Davide Vitali È pronto Dunque a sfidare Il Sahara E in questo In questo articolo Del Corriere Adriatico Ci sono tutte le tappe E tutto quello Che dovrà Affrontare appunto Questo giovane E adesso invece Andiamo a vedere Il resto Del Carlino Il resto del Carlino Che apre Con il borgo più bello La gratificazione Che ha avuto Il comune di Gredara Incoronata Dalla trasmissione Climangiaro Il sindaco dice E adesso È ora della funicolare Poi il caro di Rossini Torna a casa Dopo tre settimane Domani Verrà rimosso Da piazzale Della Libertà Il costo Di 12-14 mila euro Sarà sostenuto Dal cantiere Rossini Che appunto Fa da sponsor Si è spenta La consulente Del lavoro Lisotti La professionista Di 66 anni Aveva lavorato Per diverse aziende Funerali In Duomo Commosso Oddio di Silvana Ratti È stata presidente Del club Rotary Urbino Perdiamo Occasioni Dall'Europa Il partito Democratico Chiede all'amministrazione Comunale Se partecipano I bandi Oppure no E poi sotto Non è più primavera A Urbino La notizia Della morte Di uno storico Fioraio Pietro Ma lui si faceva chiamare Da tutti Piero Piero Galeotti Produttore e rivenditore Di fiori e piante A Urbino Insieme Fin dagli anni Sessanta Avevano Contrassegnato Con il loro negozio Primavera In via Vittorio Veneto I matrimoni Di tanti Urbinati E non solo È morto Ad 87 anni I funerali Si terranno Alle 15 Di mercoledì Nella chiesa Di San Bernardino Di Urbino E chiude Questo articolo Con Con Dicendo Anzi scrivendo Per una volta Potremmo dire Opere di bene Ma anche di fiori In questo caso Andiamo a vedere Adesso invece L'altra pagina L'altra pagina Del Resto Del Carlino Eccola qua Al via Le camminate Tra i conventi Francescani Siamo sulla pagina Della Valle del Metauro Quattro gli appuntamenti Un mix di spiritualità Natura e storia Con finale Culinario E sotto Terre roveresche Aperte Adesioni Per il soggiorno Termale A Riccione E poi Ottanta bambini Disabili e nonna Sul palco Del Tiberini Successo A San Lorenzo In campo Per il laboratorio Musicale Terapeutico La notizia Invece È sempre da Urbino Di un volume Di un libro Che pubblica Il diario privato Di un vescovo Ancora tanto amato Ad Urbino L'arcivescovo Ugo Donato Bianchi Che è morto Nel 1999 In questo diario Racconta L'arcivescovo La sua malattia Che lo portò Via nel 1999 E anche quella Del fratello Al quale Donò Un rene Nel 75 Si fece Espiantare Un rene Per tentare Di salvare Il fratello Il fratello Malato Nel 1988 Si ammalò Anche lui Gravemente E morì L'anno dopo Nel 99 L'ultima pagina È per lo sport Con il calcio Il fano L'alma L'alma Che al Mancini Avrà Dovrà disputare Un'altra finale Infatti arriva Il Gubbio Domani scenderà In campo I Granata Proseguono La loro marcia Per cercare In ogni modo Di salvarsi La segna stampa Finisce qui Grazie per essere Stati con noi Grazie per averci seguito Io vi auguro Una buona giornata Vi ricordo Che Questa sera Alle 20.30 C'è il telegiornale Occhio alla notizia Grazie per averci seguito A voi tutti L'auguro di una buona giornata Grazie per averci seguito